A Fabio Terzi, consigliere del gruppo Rizzi, sindaco degli albinesi, chiediamo un suo giudizio sulla recente approvazione in Consiglio Comunale del protocollo di intesa con le italciamenti per la riqualificazione dell'area industriale di Via Pravalunga e Via Pravella. Io vorrei entrare nel merito della questione, ma purtroppo non ho gli elementi per farlo, perché ancora una volta, per l'ennesima volta, il sindaco e questa maggioranza ci hanno messo di fronte al fatto compiuto. Per l'ennesima volta hanno messo sul tavolo una questione molto importante, come quella di un ex-area industriale da riconvertire, senza darci gli elementi, i dati e soprattutto i tempi necessari per fare una discussione, una riflessione seria e serena soprattutto, perché era previsto un consiglio per il 20 dicembre, giovedì 20 dicembre, in Commissione Economia e Territorio, il 17, che era un lunedì, ci hanno portato fuori dal sacco, queste sono le testuali parole dell'assessore all'urbanistica, non era all'ordine del giorno, in Commissione fuori sacco è stato portato questo protocollo di intesa, che doveva essere subito dopo tre giorni approvato in Consiglio Comunale. Mi sembra che stiamo rallentando veramente il limite della sopportazione, non si può più procedere con questi metodi, con questo sistema, in tre giorni le minoranze sono obbligate a prendere visione, a riflettere, discutere e poi prendere le loro decisioni su un argomento di questa importanza e così per ogni altra cosa, noi siamo stanchi di essere trattati in questa maniera, è evidente che per la maggioranza la minoranza è solo un fastidio, quando possono non ci convocano, non ci dicono nulla, vedi via Mazzini, gli orari che sono stati modificati eccetera, in questo caso siccome l'obbligo istituzionale prevedeva il passaggio in Commissione e poi in Consiglio hanno deciso di fare tutto in tre giorni e non ci hanno dato la possibilità veramente di poter approfondire la questione, di fatto con questo protocollo di intesa una sola cosa è certa, che l'area verrà bonificata, poi tutto il resto sono parole, non abbiamo in mano dati, non abbiamo in mano numeri, niente per sapere quali saranno i volumi, le destinazioni, le funzioni, sono tutte parole. Quindi voi non entrate nel merito ma contestate il metodo. Il metodo, questo è evidente ed è uno dei motivi per cui non ci siamo presentati al Consiglio del 20, oltre a quello della questione di via Mazzini, che è una presa in giro dei commercianti, dei cittadini e ancora di noi minoranze, non ci siamo presentati in Consiglio proprio per quel motivo, poi il sindaco è inutile che si scaldi dicendo che potevamo fare una mozione, la via della mozione era una delle due vie possibili, la via spettacolare ma che non portava a nulla di concreto. Noi abbiamo scelto la via della Commissione per discutere pacatamente e arrivare a un compromesso e una soluzione condivisa. In Commissione hanno respinto tutte le nostre proposte e allora hanno dovuto ritornare in Consiglio e ascoltare le stesse cose che non potevano poi essere votate. Grazie a Fabio Terzi, da Albino, Lina, lo studio.